Il ritorno di Prince Harry nel Regno Unito per l'inaugurazione della statua della principessa Diana ha innescato una nuova emergenza del palazzo. Ha affermato un esperto reale. Il principe Harry è tornato nel Regno Unito e si unirà al fratello, il principe William, per una cerimonia per la nuova statua dedicata alla principessa Diana. Il 36enne è arrivato da Los Angeles la scorsa settimana. Ora deve rimanere a Frogmore Cottage per 5 giorni di quarantena legata al coronavirus. Questo giovedì, il principe Harry e il principe William e Harry staranno fianco a fianco nel Sunken Garden di Kensington Palace, dove debutteranno con una nuova statua per la loro madre, Diana. I fratelli hanno commissionato la statua nel 2017 ed è stata creata dall'artista, Ian Rank Broadly. Questo giovedì sarebbe stato il sessantesimo compleanno della defunta principessa. In vista dell'evento, l'esperto reale Robert Lacey ha scritto sul Daily Mail. Le figure di spicco a Buckingham Palace stanno lavorando alacremente per porre fine all'attuale emergenza e non commettere errori, la considerano poco meno di questo. E l'esperta reale Roya Nick ha detto. Nessuno dei fratelli offre un ramoscello d'ulivo. L'editore reale stava parlando con un caro amico di entrambi i fratelli che secondo quanto riferito ha detto. Temo che sarà lo stesso del funerale del principe Filippo. Un cenno di riconoscimento. E questo è tutto. La fonte reale ha aggiunto. In quel giorno sarà difficile separare la statua dall'occasione. L'occasione è ora carica di ogni sorta di bagaglio sgradito. Naturalmente faranno una faccia coraggiosa per l'evento. Questo è ciò che entrambi i fratelli hanno fatto al funerale del duca di Edimburgo. Punto punto. Parlando al Times, un amico intimo di entrambi i fratelli ha fatto riferimento alla controversa intervista di Oprah Winfrey e ha detto. William è ancora arrabbiato per questo. è disperazione. Oltre che rabbia. Sia Meghan che il principe Harry sono stati intervistati da Oprah Winfrey nel marzo di quest'anno e hanno parlato delle tensioni con la famiglia reale e delle loro ragioni per lasciare il Regno Unito per una nuova vita in California.